Ciao ragazzi, ragazzi in generale, da qualche ragazzolo giovanissimo. Mi direi che è un seminario divulgativo? Non mi piace tanto, facciamo un seminario di comunicazione della scienza, che è più fine. Sta ancora entrando della gente, venghino, venghino, è arrivato il treno, più gente entra, più bestie si vedono. Prendete posto perché tra un po' si parte per l'origine dell'universo. Allora, appunto, mix di pubblico, gente che sa tutto, sa molto più di me, delle cose delle quali parlerò, e gente che sul fotone invece già solo su quello scricchio. Non è facilissimo, però proviamo. Vi parlo dell'universo in raggi gamma, e adesso cominciamo subito con una roba difficile. in questa diapositiva ho riassunto tutta l'astronomia elettromagnetica. Poi c'è anche dell'astronomia che non è elettromagnetica, quella lì la facciamo l'anno prossimo, è più difficile. Poi farò un accenno alle onde gravitazionali, i neutrini, tutte quelle cose lì, più difficili. Quella elettromagnetica, in teoria, è più facile quella che fanno i nostri occhi. Il sole, esempio, la luna, prendiamo il sole, esempio, il sorgente di fotoni, giusto appunto, cioè quanti elettromagnetici, che portano l'informazione. Tra l'altro, se qualcuno vi chiede cosa vuol dire fare astronomia, parlo ai più giovani, vuol dire raccogliere informazioni dall'universo. E poi cerca di capirci qualcosa, cioè da questo cerca di capire come funzionano gli oggetti celesti, l'universo. E l'universo ci manda le informazioni in enorme maggioranza attraverso il canale elettromagnetico, cioè appunto la luce, nelle sue varie forme che adesso vedremo. Sappiate però che non è solo quello, c'è anche della parte di astronomia non elettromagnetica. Per esempio, silenzio, tutti che dobbiamo. I meteoriti, i meteoriti che sono dei sassi che cadono dal cielo, tutto sommato sono un pezzo importante di informazione astronomica, ne è appena arrivato uno da Marte, avete letto, ne è appena arrivato uno da Marte che ci ha suspalmato un po' di roba organica, potrebbe essere la prova della vita su Marte, cioè un'informazione non malaccio, tutto sommato. E poi anche i raggi cosmici che sono dei meteoriti piccolini piccolini, delle particelle, e poi i neutrini che sono ancora più piccoli, eccetera. Però il grosso dell'informazione, l'universo, ce lo manda attraverso la radiazione elettromagnetica, che è in nostri occhi. Poi Galileo ha cominciato un telescopietto da 4 cm di diametro. Io oggi sono arrivato qui dal rinno del Consiglio Europeo dell'Astronomia a Monaco, dove abbiamo approvato il prossimo grande telescopio, il più grande del mondo, 40 metri di diametro. Dicesi 40 metri di diametro. Non è malaccio, dai 4 cm di Galileo in 400 anni, tutto sommato abbiamo fatto un bel po' di strada. Boh, allora, qui questa roba colorata, fuori avete visto c'è uno splendido arcobaleno, io l'ho visto prima, questa roba qui, coloro arcobaleno, è quell'intervallino piccolino di astronomia elettromagnetica di fotoni ai quali i nostri occhi sono sensibili, e non a caso l'atmosfera è trasparente. Non è casuale. Poi c'è una parte di infrarosso e radio, che i nostri occhi non vedono, che però è un fior di informazione importante, e poi tutta la roba più di alta energia, raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma, che sono open-ended, come si diceva, no, anti all'infinito, non è che ci hanno, e sono un intervallo enorme i raggi gamma come energia, adesso poi vedremo. Allora, la nostra atmosfera, per nostra fortuna, scherma l'enorme maggioranza di questi fotoni di alta energia, e soprattutto i raggi gamma. Dico per il nostro futuro, perché sennò non ci sarebbe vita sulla terra, beh, i raggi gamma, insomma, dei carogna, è ovvio, insomma. Adesso vi parlerò un po' di questi raggi gamma, perché io ci ho passato tutta la vita, quando ero giovane, laureando un certo professor Occhialini, qualcuno di noi si ricorda, mi prese, mi offrì volontario per lavorare su un progetto raggi gamma, io ho detto signor sì, perché una volta non si discuteva, tutta la vita poi... Vabbè. Allora, questi... Per studiare i fotoni elettromagnetici ci sono vari modi, adesso non entriamo in dettagli su come si fanno i telescopi, ma insomma, quelli di energia più bassa si possono riflettere, far deviare, eccetera. Quelli di energia più alta, che sono appunto i raggi gamma, siccome hanno una lunghezza d'onda che è più piccola delle distanze interatomiche, concettino un po' difficile, ma non tanto, non riescono a seguire l'ottica geometrica, bisogna trattarli come particelle, quindi con dei rivelatori che somigliano moltissimo, sono nati proprio da quelli che ci hanno insegnato i colleghi delle particelle, mentre io sono diventato grande a costruire una camera scintilla a fili, che qualcuno di voi si ricorda vagamente che cos'è. E allora, dopodiché ci sono dei trucchetti speciali, ma lasciamo perdere i trucchetti. I raggi gamma, prendendoli a pezzi, cioè la prima parte nell'intervello, in una scala di energia crescente, in una scala di energia che si chiama MEV, milioni di elettronvolt, per intenderci, questo fotone qua che mi viene nell'occhio adesso, ciascuno di questi ha un'energia di un elettronvolt, si chiama così, che è un'unità di misura di energia. I raggi gamma hanno un'energia che è un milione di volte più grande, occhio, un milione di volte più grande, cioè tanto, e perciò gli metti davanti un M maiuscolo, un milione, MEV. questi qui si possono ancora studiare con dei trucchetti che sono presso a poco dei collimatori, degli assorbitori, e tu passa o non passa. Però bisogna andare fuori dall'atmosfera terrestre, perché sono anche loro assorbiti dall'atmosfera terrestre, e quindi abbiamo fatto un bel satellitone che si chiama Integral, che è in orbita da dieci anni, adesso, e ne siamo molto fiere perché ha funzionato alla grande con un sistema, una specie di collimazione, e ha fatto per la prima volta un'analisi del cielo a questa lunghezza d'onda. Il risultato è questo qua, cioè non è che in tutto il cielo sia tutto l'ero e c'è un buchino, questo è un risultato importantissimo, ragazzi, pubblicato su Nature, così, una cosa importantissima, perché? Perché sono dei raggi gamma speciali, che hanno una riga, cioè hanno un'energia fissa, e sono l'energia di annichilazione materia-antimateria, tipo Star Trek, Star Trek c'è l'astronave antimateria, figata pazzesca l'astronave antimateria, se riuscissimo a farlo, ragazzi, c'è più energia nell'annichilazione materia-antimateria che non la fusione, la fissione, eccetera, questa qui è la riga di annichilazione materia-antimateria che viene dal centro della nostra galassia, vuol dire che nel centro della nostra galassia c'è dell'antimateria che si annichila continuamente con la materia, beh, insomma, un bel risultatino, ma per di più, andando a grattare bene, si vede che questa roba qui non è simmetrico, vedete che è un po' storto da una parte, e allora uno dice, allora vuol dire che non è che sia, come dire, il buco nero nel centro della galassia, cioè un puntino lontano, ci deve essere un qualche cosa, e siamo andati a cercare di grattare e di capire che cos'era, facendo dei profili, cercando di fare dei trucchetti, e alla fine, la faccio breve, abbiamo scoperto che questa roba c'è la stessa asimmetria, vedete, ce n'è un po' di più a destra che non a sinistra, di certi oggetti che sono questi puntini verdi, sono degli oggetti celesti che sono delle stelle binarie ad alta massa in raggi X. In sostanza abbiamo scoperto che queste stelle, che sono delle speciali stelle che aveva scoperto Riccardo Giacconi, tra gli altri per esempio, sono dei produttori di antimateria, dopodiché l'antimateria appena prodotta, poverino, si trova intorno alla materia, quindi puff, si annichila, però morendo fa quel segnale lì che abbiamo visto. È una bella scopertina, tutto sommato, è già un bel risultato. Dopodiché, cose altrettanto belle, importanti, si fanno in questo intervallo di energia, attenzione, andando a cercare delle supernove. Supernove, forse qualcuno di voi se lo ricorda, è la fine, la fase finale dell'evoluzione di un certo tipo di stelle, delle stelle molto molto pesanti, con una massa di partenza dieci volte alla massa del Sole, che vivono tutta la vita, sapete che la stella, non voglio farvi perdere tempo, ma vorrei chiedere a uno, a caso là in fondo, a un volontario, se mi dice perché le stelle sono rotonde, perché le stelle sono sferiche, non cubiche, concetto, non c'è un volontario che è capace di dirvelo, vabbè, ve lo dico io, perché sono il risultato di un equilibrio, nel senso che la stella nasce da una specie di nuvoletta in forma, poi collassa, dentro si accende la reazione nucleare che caccia fuori energia, però la stella è pesante, pesa, e quindi il peso punta verso l'interno, e la sfera deriva dall'equilibrio tra l'energia che viene emessa all'interno e la gravità che invece spinge dall'esterno verso l'interno. Questa è la ragione per cui il sole è rotondo. Quando finisce il carburante interno, cade su se stesso, implode, poi esplode, fa un botto pazzesco che emette 10 alla 53 Ergs in un secondo, 10 alla 53 è un numerazzo pazzesco, difficile da immaginare, molto di più di tutta l'energia che emette il sole nei suoi 10 anni, 10 miliardi di anni di vita. Vabbè, allora, un botto pazzesco che fa di colpo diventare brillante la stella se vista da lontano. Allora, un giorno un insegnante di astronomia stava facendo vedere questa fotografia di una bella galassia, una galassiotta qualsiasi, abbastanza normale, relativamente vicina, ha detto, oh cazzo, ma qui c'è una roba che prima non c'era, non l'ha detto così perché è inglese molto fine, ma l'equivalente, ecco, e questo puntino qui non è banale perché prima non c'era, capite? Allora, minchia, cioè qui, allora, è andato a grattare un po', si è capito che era una stella di quella galassia lì, questa galassia c'ha dentro 100-200 miliardi di stelle, non si vedono individualmente perché è lontana, però se una fa sto botto diventa di colpo visibile. Allora, attenzione perché in quel botto lì succede di tutto, succede una fornace termonucleare, delle cose impressionanti, eccola qui, vedete, questa è la carta del cielo dove c'è, questa qui è la galassia, M81, questa galassione, qui dove c'è la posizione della supernova, questo però è stato preso un anno prima e un anno dopo voilà che compare, non c'è dubbio, solo che questa immagine è stata presa in raggi gamma di alcune centinaia di Kev, una frazione di Mev, e questa cosa qui non era mai stata vista, vuol dire che di colpo quella supernova lì emette questi raggi gamma, ma di quelli lì noi ce ne intendiamo bene grazie ai fisici nucleari, ai cugini fisici nucleari, nel senso che loro ci hanno insegnato che alcuni elementi della tavola di Mendeleev, i loro isotopi, che sono un caso particolare di questi elementi, hanno delle righe, cioè hanno la proprietà di mettere dei raggi gamma in quell'intervallo di energia con una riga molto molto ben precisa, che quindi rappresenta la firma di quegli elementi. Morale, abbiamo visto in diretta la formazione in questo caso di carbonio e ferro, credetemi sulla parola, di alcuni elementi formati in diretta e poi anche elementi al di là del ferro. Cioè, come poi ho scritto sull'Espresso, siamo davvero figli delle stelle, se siamo fatti di polvere di stelle, tutti i nuclei, noi ci abbiamo detto qualche litro di idrogeno che viene dal Big Bang direttamente, e vabbè, sono quello lì a 13,67 miliardi di anni, non li dimostriamo, però insomma ci sono, e poi invece gli altri sono fatti nelle stelle e queste qui in particolare gli elementi più pesanti sono sintetizzati, costruiti nelle supernova. Anche questo è un bel risultato perché nessuno sapeva come si facevano a fare gli elementi pesanti. Noi, l'oro degli orecchini della signora è stato costruito in un'esplosione di supernova, non c'è altro modo di fare l'oro, da solo non si fa l'oro, non è che dopo lo fai a forma di orecchino, ma il nucleo è stato costruito dentro in un'esplosione come questa qui. Vedete che serve a qualcosa l'astronomia gamma. in un'esplosione in un'esplosione in un'esplosione in un'esplosione in un'esplosione